Lo stato di salute delle strisce pedonali in città è abbastanza critico. Noi siamo in zona Montefarco, molto popolata, qui ci sono tantissime attività, quindi molte sono le persone che utilizzano le strisce pedonali. Per capire che qui ci sono le strisce pedonali bisogna usare molta fantasia. Altro punto dove le strisce pedonali sono un lontano ricordo ed è una situazione particolarmente pericolosa anche perché siamo a poca distanza da due scuole molto frequentate e popolate come l'ITIS e il liceo scientifico. Qui addirittura sono stati fatti dei lavori, poi un pezzo di riasfaltatura proprio sul punto delle strisce pedonali, però si sono dimenticati di ridipingerle un'altra volta e quindi vedete i risultati. Insomma concludendo signor Assessore, basterebbe veramente poco secchi di vernice bianca, pennelli e tanta buona volontà. Grazie a tutti.